Isola il dito birichino di Mara de Nier manda in confusione tutti si offenderà Alessia Marcuzzi? Leggete cosa è successo. All'isola dei famosi accandono cose sempre più strane. Non è colpa dei fantasmi però, come vorrebbero farci credere gli autori, ma di quello che stanno facendo i conduttori e opinionisti, che lasciano basiti. Non abbiamo fatto in tempo a fare un articolo sullo strano comportamento di Alessia Marcuzzi, che negli anni si è dimostrata molto morigerata e mai eccita nelle risposte anche ai suoi haters, ma che ora inizia ad essere insofferente a chi le critica una conduzione troppo parziale e grossolana, vedi l'articolo Isola Alessia Marcuzzi risponde con immotivata credine all'ironia social divagante. Cosa pensate delle sue parole? E soprattutto Isola Alessia Marcuzzi si schiera apertamente con Francesco Monte? Cosa pensate delle sue parole? La produzione lo sta davvero proteggendo? Che subito una nostra storica tantina nota che eppure Mara de Nier non sa più che pesci pigliare e soprattutto da che parte schierarsi. Prima difende la sua amica conduttrice presa troppo di mira dalle critiche di chi la sta seguendo e che la ritiene poco professionale soprattutto nei confronti di Eva Enger non trattata benissimo nella puntata di lunedì scorso, poi piaccia un commento, che condanna aspramente la Marcuzzi. Siamo abasiti da tutto ciò. Le è scappato il dito birichino come accade spesso a chi metterli che senza poterne dare motivazione? Dovrà fare ammenda pubblicamente lunedì per non essere cacciata dagli studi come Eva? Ah vedremo cosa hanno in serbo per lei gli autori, di sicuro non possono minacciarla di non andare in onda i suoi best moments per dispetto, perché in quel caso si darebbero solo la zappa sui piedi. Grazie a tutti.